Ciao a tutti, bentornati sul mio canale GiapolioTV. Chi segue il mio Instagram, TikTok o Facebook sa che ero a Napoli negli ultimi 4-5 giorni. Quindi oggi vi parlerò delle cose che mi sono piaciute tanto di questa città. Sicuramente arriverà questo tipo di messaggio come Non sai niente di Napoli, hai visto solo la parte positiva, se non vivi non capisci niente, eccetera. Sì, hai ragione. Quindi prima di tutto vi dico che quello che dirò sono solo le cose che mi sono capitate e mi sono piaciute. Cioè un'esperienza come un turista giapponese. Non sto parlando dei problemi di Napoli. Pertanto considerando quanto detto, vi prego di guardare questo video. Anche fatemi sapere con un commento la vostra esperienza bella a Napoli. Alla fine del video vi dirò anche una cosa che ho odiato, quindi guardate fino alla fine. Ok, iniziamo. Allora, la prima cosa che vi dico è sui napoletani. Certamente dipende dalle persone, ma ho visto che con i miei occhi i napoletani sono molto simpatici e gentili. Sì, anche ci sono tanti simpatici e gentili in altre città in Italia, ma restando nella città giorno dopo giorno ho sentito la percentuale più alta rispetto all'altra città. Soprattutto anche verso stranieri o turisti sono molto simpatici. Io sono asiatico, quindi ho tante esperienze in cui mi hanno parlato o trattato male in tutto il mondo, soprattutto nei paesi occidentali. In Italia, quando sono da solo e quando sono con Viviana, è proprio diverso come mi trattano o come mi parlano. Ma questa cosa magari anche in Giappone è uguale, quindi non mi lamento niente di questa cosa. Però a Napoli tanti mi parlavano o quando ho chiesto qualche informazione mi rispondevano molto bene. Non erano i miei follower, non mi conoscevano, semplicemente erano simpatici. Certo che non tutti sono così e ho visto anche tanti maleducati, ma questa cosa per me è già una cosa molto importante e piacevole. Perché immagina se vai in un paese o una città e ti parlano male o ti trattano male, vuoi tornare in quel posto? Mi è capitato tante volte anche quando sono andato in un ristorante e il livello dei camerieri era basso e mi trattavano e rispondevano male. Anche se il cibo di questo ristorante era buono, non potevo sentire il sapore positivo. Ma a Napoli quasi tutti i posti dove ho mangiato rispondevano benissimo, anzi chiacchieravamo e mi consigliavano tante cose. Già i cibi napoletani tutti sono buoni, ma in questo stato di benessere la bontà sembra essere raddoppiata. Anche ho visto molte scene in cui le persone si aiutavano a vicenda. Rispetto all'altra città in Italia ne ho visto tante, almeno 5 volte al giorno. Quando ho visto queste scene ho sentito quel calore umano che non solo in Giappone, ma molte persone moderne stanno iniziando a dimenticare. Loro aiutavano le persone senza chiedere nulla in cambio. Sì, è una cosa normale, ma adesso in tutto il mondo tante persone stanno dimenticando questa cosa, incluso me. Ma è una cosa molto importante per essere umano. Anche ho notato e sentito tanto che i napoletani hanno l'ospitalità. Vogliono che tante persone di fuori abbiano buona esperienza o si divertano a Napoli. Vogliono condividere proprio con tutti la loro città. Secondo me è perché i napoletani amano davvero la loro città e ne sono orgogliosi. Questa cosa è molto simile a noi persone di Osaka. Tanti italiani dicono Napoli è l'altro mondo, sia in modo positivo che negativo. In Giappone anche tanti giapponesi dicono così di Osaka. E tanti osakanesi sono orgogliosi e hanno l'ospitalità. A volte siamo un po' troppo esagerati con l'ospitalità. E per chi non vuole diventa qualcosa solo per il nostro ego. O mostruiamo troppo, tipo Osaka è il numero uno in Giappone, eccetera. Quindi alcuni odiano proprio i osakanesi. Secondo me anche Napoli è simile. Perciò magari sento molta vicinanza con i napoletani. Scusatemi se ho sbagliato, ma ho sentito proprio così vedendo i napoletani. Magari anche per questo tanti italiani dicono Osaka è la Napoli giapponese. Nella città non ho visto tanta somiglianza, ma con le persone sì. A me piacciono i napoletani. Potrebbe sembrare che stia cercando di compiacere i napoletani dicendo così, ma non avrebbe senso per me cercare di piacere loro. Dico questo solo perché è davvero quello che penso dopo il mio recente soggiorno. L'ho detto anche all'inizio del video. Ovviamente avendo soggiornato solo per alcuni giorni, ho visto solo i lati positivi di Napoli e dei napoletani. Se vivessi lì la mia opinione potrebbe cambiare. Ma al momento amo davvero Napoli e i napoletani. Allora il prossimo. E mi è piaciuto tanto anche il cibo e la città. Queste cose sono troppo famose, quindi non c'è nessuna sorpresa per tutti. Già a me piace tanto il cibo italiano e soprattutto qualcosa di pesce. A Napoli ho mangiato bene. A me piace proprio il sapore, gusto e modo di cucinare. Mi piace anche il vino campano, agure coritufo. E soprattutto a me piacciono i pesci, quindi sicuramente anche il cibo siciliano mi piacerà tantissimo. Ditemi un piatto consigliato per favore. Per quanto riguarda la città mi sono sorpreso. Napoli è bella. Sì, questa cosa tutti conoscono. Però c'è stereotipo per i giapponesi che Napoli è la città più pericolosa in Italia. Purtroppo anch'io avevo questo stereotipo finché ci sono andato per la prima volta sette anni fa. Sì, magari notte tardi dove non c'è la gente è pericoloso. Ma questo non solo a Napoli, tutto il mondo è così. Anche ho sentito adesso è più pericolosa l'articittà dell'Italia. Quindi vorrei dire a tanti giapponesi che Napoli è una città sicura se si prendono le precauzioni minime come tutte le altre città. Chi non viene perché pensa che sia pericolosa è proprio un peccato. La città è molto bella e mi sono innamorato. Ok, alla fine vi dico quello che odio di Napoli. Ma magari anche l'altra città grande è quasi uguale. Dico Napoli perché questa volta ci sono stato e ho avuto questa esperienza lì. Odio attraversare la strada Napoli. Questo odiavo proprio perché è semplicemente pericoloso. Soprattutto dove non c'è semaforo. Non hai garanzia che si fermano davanti alle storisce. Non mi fidavo mai di nessuno. Chi guida la moto va molto veloce. Ne ho visti proprio tanti. Quando attraversavo la strada era come una scommessa perché non avevo certezza che si sarebbe fermato. Anzi, tanti non si fermavano e andavano veloce. Se fa un incidente uccide qualcuno ed anche per loro c'è il rischio di morire. Ma non succedono incidenti? Se qualche napoletano guarda questo video fatemi sapere per favore come attraversare la strada. E non vi siete mai sentiti in pericolo o no? Ovviamente non tutti i motoristi guidano male. Quindi scusatemi chi guida bene se questo discorso ti fa sentire male. Ma non volevo rischiare la vita soprattutto quando sono con Viviana e Sakura. Non vorrei immaginare questa cosa. Spero che metteranno un semaforo o faranno una molto grande se non si ferma davanti a strisce. Ok, oggi vi ho parlato del mio amore per Napoli. Mi è piaciuto tanto. Sicuramente tornerò il prima possibile. Anche vorrei visitare le altre città. Ancora conosciuto solo un pezzo dell'Italia. Quindi continueremo a fare la nostra avventura. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche seguitemi ai social netto per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Yum, yum! Ciao! 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 Ciao!